Fossombrone, diciottenne, muore in sella al suo scooter Fano, pensionato, arrestato per spaccio di cocaina Bagnaia, campione, Pesero e Tavuglia propongono cittadinanti onorari La regione rilancia il progetto dell'anello ferroviario Cartoceto, buona la prima per il festival dell'olio DOP Buona serata a tutti voi amiche e amici di Rossini Rossini TV e ben ritrovati ad una nuova settimana in compagnia con l'informazione serale di Rossini News Telegiornale di lunedì 7 novembre che però apriamo purtroppo con una tragedia sulle nostre strade Quelle di Fossombrone dove nella notte fra sabato e domenica è morto in scooter il diciottenne Filippo Giovanelli Forse impronese e studente all'istituto agrario Cecchi di Pesero Attorno alle due di notte a San Lazzaro di Fossombrone Giovanelli era infatti in sella al suo scooter Accompagnato da una coitanea sul sedile posteriore con la quale rincasava da una festa fermignano Filippo però ha perso il controllo del mezzo quando era a poche centinaia di metri da casa La violenza dell'impatto ha portato a soccorsi ad un ricovero disperato all'ospedale di Fano Ma Filippo non ce l'ha fatta Solo ferite lievi invece per la ragazza La notizia ieri ha subito generato sgomento a Fossombrone Tant'è che allo stadio locale nella partita di eccellenza tra Fossombrone e Valdichienti E' stato osservato un minuto di silenzio per ricordare il ragazzo che lascia nel dolore i genitori e una sorella più piccola Un insospettabile 74enne pensionato è stato sorpreso a spacciare cocaina a Fano nei dintorni dell'ex pista di go-kart Lo ha scoperto la polizia insospettita dagli anomali flussi di persone verificatosi in quella zona sia di notte che di giorno La polizia è così intervenuta accogliendo in flagrante il 74enne mentre cedeva dosi di cocaina ad un cliente Sono scattate le manette con trasferimento in carcere in attesa del processo fissato per l'inizio di dicembre Ed ora cambiamo radicalmente argomento perché ieri anche la città di Pesaro ha festeggiato l'incoronazione di Pecco Bagnaia a campione del mondo di MotoGP Nell'occasione il sindaco Ricci ha anche proposto la cittadinanza onoraria per il campione abitualmente residente in città Una grande soddisfazione, una grande vittoria, un popolo del motociclismo che si ritrova qui a Pesaro di fianco al casco di Valentino Ancora una volta per vincere il mondiale Tanta gente, tanta passione, siamo la terra dei piloti e dei motori Proporrò al consiglio comunale la cittadinanza onoraria per Pecco E sono sicuro che il consiglio risponderà affermativamente Porto Pecco e ti aspettiamo a Pesaro Un videopost di Matteo Ricci propone la cittadinanza onoraria a Pecco Bagnaia a pochi minuti dalla bandiera Scacchi che lo ha laureato campione del mondo di motociclismo Un italiano su moto italiana Un binomio vincente che il comune di Pesaro ha voluto celebrare allestendo un maxischermo per seguire la gara in piazzale d'annunzio a fianco al maxicasco di Valentino Rossi Leggenda alla quale Pecco ora raccoglie l'eredità Un evento nel lungomare pesarese che ha visto la partecipazione di diversi tifosi entusiasti Pecco is on fire! Campione del mondo! Contenso? Sì, tantissimo! Finalmente! Siamo veramente contenti, sinceramente io all'inizio non me l'aspettavo che potesse vincere il mondiale Era un sacco... Sì, io me l'aspettavo, me l'aspettavo e come? Prevedibile però... Bello Bello, ben accolto Un merito di festeggiamenti possibile Per noi veramente una grandissima soddisfazione anche perché abbiamo creduto tanto sul fatto che occorre promuovere il nostro territorio regionale Ma in particolar modo Pesaro e Tavuglia come posti a livello internazionale dove i piloti e i motori fanno parte della nostra storia Grazie anche all'academy devo dire che è stata messa in piedi a Tavuglia dove molti piloti a livello internazionale vengono per allenarsi Questo è un ulteriore passo in avanti, una bella promozione per il nostro territorio Ma voglio fare anche complimenti all'amministrazione comunale di aver deciso di montare questo mega schermo In maniera tale che oggi veramente la festa è stata una festa di tutta la città Ma non solo la cittadinanza onoraria di Pesaro, per Bagnaia ci sarebbe anche quella di Tavuglia da tempo promessa dalla sindaca Francesca Paolucci che ieri era a seguire la gara a Chivasso, ovvero nel paese natale di Bagnaia per una sorta di gemellaggio con la cittadina piemontese Noi a Tavuglia abbiamo conosciuto Pecco grazie a Valentino Rossi chiaramente e altrimenti magari non l'avremmo neanche mai incontrato In queste occasioni anche per esperienza posso dire che la città o il paese che fa crescere, ospita dai Natali a un campione è ancora più orgogliosa e quindi è giusto anche rendere merito e omaggio a quel paese, a quella città quando i risultati si ottengono Questo anche un po' in un clima di solidarietà, di condivisione ma comunque lasciando a quel territorio il valore L'ho definita anche una luce, è una luce, è un campione, è un talento che in qualche modo mette in luce quel paese, quel territorio e a volte proprio quelli più piccoli hanno bisogno di queste cose e sono andata a Chivasso per questa ragione sono stata accolta veramente molto calorosamente dal sindaco, dal fan club di Pecco, da tutti loro e li ringrazio Invece per quanto riguarda la... io non sono arrabbiata come qualcuno mi ha definito assolutamente forse sono un po' delusa perché se tutti condividessimo delle situazioni se soprattutto tra sindaci si parlasse di più magari riusciremmo anche a godere meglio insieme dei risultati che sono un orgoglio insomma per tutti Io per questa ragione a Chivasso sono andata anche per stabilire un rapporto di collaborazione il sindaco di Chivasso l'ha definito anche un possibile gemellaggio e questa cosa mi fa veramente piacere tant'è che l'ho già invitato quando faremo una... quando daremo un riconoscimento vuoi la cittadinanza, vuoi altre situazioni ma pensavo alla cittadinanza che cosa che devo dire l'ho già promessa a Pecco direttamente mesi fa e quindi sono anche a mantenere la parola data il sindaco di Chivasso è ben lieto di partecipare tra l'altro l'idea è anche quella di farla condividere ad altri sindaci del territorio ed essere presenti come avevo fatto nel 2015 quando abbiamo festeggiato Valentino per Valencia io invitai all'epoca tutti i sindaci a vedere la gara da Tavuglia ed è stato un bellissimo momento quindi per me non c'è una contesa ha fatto benissimo il sindaco di Pesaro offrire la cittadinanza perché Pecco vive e abita, ha preso casa a Pesaro e quindi chiaramente secondo me fa benissimo noi per quanto riguarda Tavuglia lo abbiamo tutti i giorni perché si allena ripeto, questo sempre grazie a Valentino Rossi non esiste un contenzioso esiste solamente una sensibilità che andrebbe espressa, manifestata soprattutto tra colleghi, tra sindaci per fare poi le cose in sinergia e cambiamo argomento e parliamo di infrastrutture l'anello ferroviario è uno dei tre interventi che la Regione Marche ha intenzione di rilanciare realizzando collegamenti alternativi a quello adriatico se ne è parlato oggi in una conferenza stampa ad Ancona organizzata dall'assessore Francesco Baldelli che ascoltiamo Diciamo che la mancata visione che è appunto mancata la nostra Regione negli ultimi vent'anni e oltre è già costata il costo del non fare 3 miliardi di euro per opere infrastrutturali non realizzate tra questo è l'anello ferroviario che unisce tutti i territori interni delle Marche con la nostra costa e con le dorsali principali ossia la linea adriatica e la Roma-Ancona la viabilità della Valle del Potenza con la mancanza di un casello autostradale e con le bretelle di connessione della Valle con l'autostrada A14 e la ferrovia dei Due Mari la cosiddetta Ascoli-Rieti che anch'essa nel solo tratto marchigiano ci ha fatto perdere oltre un miliardo di euro di sviluppo della nostra Regione quindi una mancata perdita per l'economia delle nostre imprese una mancata perdita per il PIL della nostra Regione e quindi conseguenzialmente anche della nostra nazione l'anello ferroviario ha visto la riapertura di un tratto della ferrovia che è stata poi oggetto purtroppo anche degli eventi dell'alluvione e i lavori sono in corso per il suo ripristino nel tratto tra Fabriano, Sassoferrato e Pergola ma questo non basta perché noi dobbiamo unire Ascoli con Porto d'Ascoli abbiamo una linea elettrificata arrivare a Civitanova Marche da Civitanova Marche arrivare a Dalbacina a Fabriano dove si stanno compiendo dei lavori anche con risorse della Regione Marche con 40 milioni di fondi di sviluppo e coesione per la sua elettrificazione poi siamo arrivati a Pergola ma Pergola non basta dobbiamo arrivare a Durbino e poi a Fano per unire tutta la nostra Regione e avere un anello complementare rispetto all'Adriatico che tanto utile sarebbe come misura di sicurezza in caso di interruzione della linea adriatica ma per la connessione per la crescita omogenea di tutto il nostro territorio Allora partire da uno studio di analisi dei dati ci dà la possibilità di conoscere le esigenze su alcune infrastrutture non entriamo nella progettazione entriamo soltanto nella parte diciamo tecnica di analisi dei dati lo studio che presenteremo è uno studio che l'abbiamo condiviso con l'assessore Baldelli partiamo su tre linee di studio che abbiamo voluto mettere in campo però lo allarghiamo anche a tutto il mondo diciamo della connettività con il progetto Bull e all'interno di questo stiamo proprio trovando anche quelle sinergie che possono aiutare anche l'entroterra le zone più lontane a essere più vicini a livello telematico con il mondo e torniamo a Pesaro dove la Onlus Gulliver in collaborazione con il Comune prosegue il suo progetto Altro Giro con la donazione di altri giochi per bambini in aree verdi della città vediamo un altro gioco un altro regalo che il progetto Altro Giro promosso dalla Onlus Gulliver e il Comune dona alla città di Pesaro due tavolini dove poter giocare a scacchi in compagnia passando al tempo stesso una giornata immersa nella natura del parco Miralfiore un gioco che non esclude ma include sia nella forma che nella sostanza perché per ogni tavolino sono state costruite tre panchine attorno con uno spazio lasciato per disabili in carrozzina un'idea che si è potuta concretizzare grazie alla donazione di 5.000 euro di Altro Giro che da anni porta avanti i principi del recupero e del riuso anche nei parchi giochi questa mattina inauguriamo l'ennesimo gioco siamo quasi 50.000 euro donati al Comune di Pesaro e per noi è una gioia le persone partecipano ci portano tutte quelle cose che non usano le ragazze le sistemano le puliscono in primis donazioni alle famiglie bisognose e poi c'è la vendita di questi oggetti nelle nostre sedi con il ricavato questa mattina è l'ennesimo gioco altri sono in programma settimana prossima l'altra del libreria Trebbio Antico andiamo avanti siamo contenti è veramente una bellezza una collaborazione che è iniziata ormai quasi due anni fa la Gulliver ci ha regalato circa 40.000 euro di giochi siamo arrivati l'ultimo proposto invece è arrivato da Lorenzo da Lorenzo Lugli che assieme agli amici degli scacchi ci ha proposto di fare qualcosa che potesse coinvolgere gli appassionati i giocatori di scacchi che ci sono nella nostra città allora abbiamo iniziato a cercare a scartabellare abbiamo trovato questi tavolini un po' particolari bellini anche dal punto di vista estetico siamo riusciti a portare all'interno del Parco Miralfiore un'altra piccola attrazione ovviamente il nostro obiettivo è sempre è quello di rendere il Parco Miralfiore sempre più bello fruibile e attrattivo e un pezzo alla volta ci stiamo riuscendo dopo anni di oblio negli ultimi mesi insomma stiamo spingendo molto molto sul Parco Miralfiore è un'iniziativa importante che vuole essere uno strumento aggiuntivo alla lotta contro le ludopatie e alla dipendenza da internet noi promuoviamo e in questo ringrazio anche l'associazione sport direttantistico Scacchi di Peso vogliamo proporre il gioco degli scacchi come che non è soltanto un gioco ma è una disciplina e uno sport e propone un'attività che è totalmente al di fuori da quello che è la fortuna e il gioco d'azzardo a scacchi non si vince per fortuna si vince per bravura e c'entra la logica c'entra il calcolo c'entra la previsione di quello che farà l'avversario insomma un modo per sviluppare e per aumentare le capacità cognitive delle persone a questa cosa seguiranno tante iniziative siamo in accordo con l'associazione con il circolo scacchistico di Pesaro vogliamo fare dei tornei vogliamo proporre delle sfide vogliamo fare tante cose quindi molto seguirà la Onlus Gulliver l'associazione di volontariato di Via Toscana arrivata a quasi dieci anni di età continua nella sua missione per poter contribuire a un futuro migliore delle famiglie più bisognose abbiamo quasi 500 famiglie che soprano il migliaio di persone Pesaro e Comune Dimitrofi la difficoltà è crescente quindi noi tentiamo di dare una mano concreta alle persone il cittadino può donare il mobilio vestiti cibo nelle nostre sedi di Via Toscana 111 Via Rossi 20 e Piazzare di 4 dove poi successivamente doneremo alle famiglie che hanno bisogno oppure per chi vuole acquistando il bene contribuendo così al progetto del riuso e del riciclo Sabato a Borgo Pace è stata inaugurata la Casa della Scrittura alla presenza del Governatore della Regione Francesco Acquaroli dell'Onorevole Mirco Carloni del Consigliere Regionale Giacomo Rossi di tanti sindaci e del Vice Sindaco di Pesaro Daniele Vimini guidati dalla padrona di casa Romina Pierantoni la Casa della Scrittura è un luogo pensato e ideato da Libraria il palcoscenico del libro ed è nata per rendere omaggio e tramandare i generi della scrittura in un'antica conceria dismessa che ora si trova ad essere come spazio multifunzionale pronto ad accogliere scrittori lettori e attori del mondo della cultura le immagini che invece vi mostriamo ora si riferiscono alla giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate che il Comune di Mondolfo ha commemorato ieri con una cerimonia pubblica iniziata con il ritrovo delle autorità alla chiesa di Sant'Agostino dove si è svolta la messa di suffragio al termine della funzione poi un corteo ha raggiunto il monumento ai caduti del parco della rimembranza per la cerimonia istituzionale il sindaco Barbieri nell'occasione ha conferito un riconoscimento nell'anno del congedo al luogo tenente dei carabinieri Antonino Barrasso come segno di profonda riconoscenza dopo aver guidato per oltre 20 anni la stazione dell'arma di Marotta per poi prestare servizio presso quella di Fano celebrazioni della giornata delle Forze Armate anche ieri a Vallefoglia con il Comune che ha ufficialmente inaugurato il piazzale adiacente la chiesa Santa Maria Annunziata di Morciola a Don Mario Sacchini storico e indimenticato parroco dal 1949 al 1989 ed ora ci spostiamo a Cartoceto per andare ad approfondire Cartoceto DOP il Festival una 45esima mostra mercato dell'olio e dell'oliva che andiamo a rivivere nelle immagini della sua prima domenica anche con il contributo del sindaco Enrico Rossi Fa il pieno di visitatori la domenica del taglio del nastro di Cartoceto DOP il Festival 45esima mostra mercato dell'olio e dell'oliva il gusto dell'oro verde delle marche ha avvolto il centro di Cartoceto nelle su ricco mix fra degustazioni stand espositive mostre show di clownerie percorsi naturalistici il concerto di Danilo Rea e una spettacolare videomapping dedicata al centenario di Renata Tebaldi un ricco programma per rinsaldare l'identità di Cartoceto e l'ampliamento di conoscenza ai visitatori verso l'unica DOP delle Marche ricordiamo assolutamente che siamo di fronte insomma alla celebrazione alla 45esima celebrazione della nostra eccellenza agroalimentare che ricordiamo essere l'unica dopo le aria di tutta la regione Marche un percorso molto molto lungo che è partito da un povero mercato e oggi parliamo di un festival che va oltre secondo me la festa la gogliardia il divertimento gli intrattenimenti che oggi e anche domenica prossima lo ricordiamo animeranno il centro storico di Cartoceto perché così come ho più volte ormai avuto modo di spiegare Cartoceto dopo il festival è per noi una traduzione la declinazione di un modello di sviluppo economico che vorremmo per il nostro centro storico dopo 45 anni di crescita il festival non vuole smettere di ampliare la sua capacità di promuoversi è assolutamente possibile farla evolvere ancora proprio perché come dicevo prima possa diventare oltre che un festival e oltre una festa un modello di sviluppo affinché i principali asset di interesse di attrazione turistica del nostro territorio possano diventare anche delle enormi possibilità per la nuova generazione di strutturare in modo sostenibile delle attività qua all'interno del centro storico che partano dall'eccellenza agroalimentare per poi arrivare ovviamente a quelle di carattere culturale e di carattere turistico dal festival all'olio i visitatori hanno trovato un prodotto di qualità di primo ordine un'annata ad ascoltare le aziende molto positiva perché vista la siccità estiva come dire il quantitativo è sicuramente un quantitativo importante abbondante la resa è soddisfacente e soprattutto non si sono rilevati particolari problemi con quella che noi conosciamo in gergo essere la mosca ovvero uno dei principali problemi dell'olivo la tradizione dell'olio è la costante capacità di rinnovarsi vedi la novità subito apprezzata del profumo all'olio di cartoceto ci siamo inventati quest'anno questo prodotto della cosmetica assieme ad un'azienda specializzata abbiamo già coinvolto devo dire numerosi operatori commerciali del territorio di cartoceto e non anche perché un piccolo inciso doveroso ricordiamo sempre che pur essendo la denominazione DOP cartoceto questa sottende anche tutto il territorio comunale di Monbaroccio parte del territorio comunale di Fano e parte del territorio del comune di Colli al Metauro e dicevo che quest'anno in collaborazione con questa azienda di Cosmesi abbiamo elaborato questo profumo all'essenza di olio DOP cartoceto dal profumo devo dire molto molto erbaceo un profumo unisex chi ha avuto modo già di sentirlo l'ha apprezzato tantissimo e quindi speriamo che possa avere anche questo le stesse fortune commerciali economiche che nel tempo ha avuto la nostra eccellenza agroalimentare ovvero l'olio DOP cartoceto tanti prodotti di eccellenza abbinati a tante attività collaterali che hanno animato la prima domenica del festival e che faranno altrettanto nel secondo e ultimo appuntamento del 13 novembre tantissime attività iniziative ai tanti intrattenimenti di carattere culturale e musicale penso agli spettacoli di clowneria e anche musicali di piazza 20 settembre dedicate alle famiglie e ai bambini sia questa che la prossima domenica penso al punto di degustazione gestito e curato dall'Ice Marche con un aperitivo DJ set in piazzetta Guerrazi penso alle marching band che gireranno per entrambi i pomeriggi nei viottoli del centro storico di Cartoceto penso ai grandissimi spettacoli all'interno del teatro del trionfo Danilo Rea e Luciano Biondini oggi Serena Brancale la prossima domenica il corpo bandistico di Cartoceto per non far mancare appunto la tradizione al di là dell'innovazione e poi le mostre all'interno della biblioteca afraciscato della storica e antica biblioteca mostre di scultura di pittura le mostre e le riproduzioni grafico-pittoriche all'interno del teatro del trionfo la galleria d'arte Porta Marina insomma davvero ce n'è per tutti i gusti e tra l'altro non citando soltanto l'arte la cultura e la musica non dimentichiamo i numerosi percorsi naturalistici sia a piedi sia in bici che possono essere prenotati percorsi guidati ai termini dei quali è prevista una degustazione di prodotti tipici del nostro territorio a cura Rocco Cartoceto e quindi anche lì chi è amante dello sport outdoor può sicuramente apprezzare queste due domeniche anche sotto l'aspetto sportivo e concludiamo con le notizie sportive del weekend sconfitte per WL e Vispesaro un pari agrodolce per Ital Service una bella vittoria invece per la Megabox Vallefoglia emozioni forti nella domenica della Vitrifrigo Arena dove transitava la corazzata Armani Milano dove l'astronave ha onorato la memoria di Marco Piccoli pioniere del movimento ultra bianco rosso e primo amico della WL come ha voluto ricordare la società che ha omaggiato la scomparsa a 59 anni del fondatore dell'inferno bianco rosso soprattutto l'ha ricordato una tifuseria unita in cori applausi striscioni per Marco a 24 ore dall'ultimo saluto nella chiesa di Villa San Martino è stato l'emozionato prologo di una partita che la WL ha combattuto ad armi pari per un tempo salvo cedere in un terzo quarto di break importante della squadra di Messina che lì ha preso il largo dominando soprattutto a rimbalzo fino al 71 a 85 finale Repesi ha fatto i complimenti alla forza di Milano non nascondendo l'amarezza di una convinzione e di una determinazione non all'altezza di altre giornate abbiamo avuto qualche pezzo dentro la squadra stasera che onestamente non ci è non ci è creduto non ci è creduto non ci è stato convinto questa è la cosa base cosa psicologica perché dopo quando c'è questo si mette in desità ci mette si mette coesione connessione in difesa e si parte da là noi non siamo purtroppo riusciti a partire nel calcio periodo complicatissimo per la Vispesero che Albenelli ha perso sabato 2-0 col Siena in virtù delle reti di Paloschi e Riccardi nel primo quarto d'ora di secondo tempo è una Vis avviluppata in problemi strutturali e di costruzione di gioco che si traducono nella quarta sconfitta nelle ultime cinque gare e soprattutto in cinque partite consecutive senza gol un problema realizzativo che si cerca di risolvere tornando sul mercato e puntando sull'arrivo del 31enne Manuel Pucciarelli attaccante ex Serie A con Empoli e Chievo reduce da un'esperienza in Australia sconfitta dolorosa anche per il Fano che perde terreno in alta classifica cadendo 1-0 in casa del Matese nel campionato di Serie D nel calcio 5 voleva la vittoria a tutti i costi l'Ital Service ma ha rimediato un 2-2 con Real San Giuseppe nelle venerdì del Palafiera l'Ital Service che ha messo in campo tanta abnegazione alla quale non è seguita altrettanta concretezza così Pesaro fugge due volte con i gol di Chito la João Miguel ma per due volte viene raggiunta sul pari dal Real San Giuseppe fino al pareggio finale trova invece continuità di vittoria la Megaboss Vallefoglia che dopo aver vinto 3-0 a Pinerolo trascinata da Cochleva batte per 3-0 anche Busto Arsizio al Palacarneroli di Urbino e con lo sport si conclude questa nostra edizione della telegiornale Rossini News come di consueto prima di salutarci vi diamo alcuni appuntamenti sulla nostra emittente a cominciare dalla prima serata che come ogni lunedì alle 21.20 vi propone Check Up Obiettivo Salute programma realizzato dal nostro Antonio Astuti in collaborazione con Fisioradi Medical Center questa sera ospite sarà il direttore sanitario proprio di Fisioradi Marco Fravisini appuntamento dunque alle 21.20 con prima replica alle 23.15 a seguire alle 21.30 andremo a vedere il settimo concorso letterario Ideo Book dunque appuntamento questa sera alle 21.30 e poi come di consueto l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 con Buongiorno Rossini la nostra segna stampa dei quotidiani locali che per la edizione di domani martedì 8 novembre sarà condotta dalla nostra direttrice Emanuela Rossi ed è invece tutto per questa edizione di Rossini News da parte mia e di tutta la redazione vi ringrazio per averci seguito e vi saluto e vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi grazie a tutti